Sì, troppo piccole, io non sono troppo grosso. Tutto qui è troppo piccolo. Ah ah ah, Glottis, tu non cambi mai. Salve, sono Alberto Neogeo, temibile recensore di avventure grafiche. Qualcuno di voi si ricorderà di me per alcune recensioni scritte su Adventus Planet, oppure per essere una delle voci di Calavera Caffè, il podcast delle avventure grafiche. Sono qui oggi per parlare appunto dei doppiaggi delle avventure punteclicca. Se siete fan di lungo corso, vi ricorderete sicuramente dei fantastici doppiaggi italiani fatti ad avventure come Semi Maxi The Road o The Curse of Monkey Island. Purtroppo però avete anche notato che oggi questi doppiaggi non si fanno più. Purtroppo le ragioni sono tante. Ma c'è un distributore italiano, i fantastici ragazzi di Adventus Production, che stanno tentando di risolvere la situazione. E come? Stanno portando avanti una campagna di crowdfunding per dare le voci italiane ad Addio Deponia, ovvero il terzo capitolo della saga di Deponia, la saga creata e distribuita da The Dalek Entertainment. Questa saga infatti ha avuto i primi due capitoli doppiati in italiano, ma il terzo ancora no. E quindi, per riuscire a dare queste voci in italiane, Adventus Production sta tentando di portare avanti una campagna crowdfunding, cioè di raccolta fondi. Quindi voi, fan delle avventure grafiche, cosa potete fare? Potete semplicemente alzare le chiappe e andare a donare un po' di dindini per avere appunto le voci italiane. Tutte, ovviamente, tutte le informazioni sono nel link che metterò qua sotto. Ovviamente, se voi andate a donare dei soldi, avrete in cambio delle ricompense, perché il crowdfunding funziona anche così. E non vi nascondo neanche che, insomma, questa campagna crowdfunding è anche molto importante, perché se questa campagna va in porto, molto probabilmente altre avventure possono essere doppiate in futuro, e non si sa mai. Quindi, costate perdere tempo ancora qui, andate subito, insomma, perché la campagna sta andando avanti, insomma, sta anche per finire fra un po', quindi andate subito a donare qualcosa e ricevere appunto in cambio delle cose per avere, insomma, il doppiaggio di quello che, insomma, di... Avete capito, no? Quindi, andate, donate, perché le avventure grafiche hanno bisogno di voi! Che fatica!